Scuola in Sicilia all'inizio è stato rinviato a giovedì 13. Si è tenuta ieri mattina la riunione della Task Force regionale sulla ripartenza della scuola in Sicilia. All'incontro, convocato dall'assessore regionale dell'istituzione Roberto Lagalla, ha partecipato anche l'assessore alla sanità Ruggero Orrazza. Sulla base dei risultati dell'incontro, alla luce dell'aggravamento dei contagi, il Governo regionale ha deciso di spostare il rientro a scuola a giovedì 13 gennaio. Lo ha fatto anche tenendo conto delle oggettive complessità applicative delle disposizioni nazionali per la riapertura delle scuole. L'escamotage ha utilizzato la modifica di competenza regionale del calendario scolastico 2021-2022, riducendone di tre giorni la donata originariamente prevista. Registro la unanime posizione di rettori, dirigenti scolastici, rappresentanti sindacali e delle associazioni familiari, ha dichiarato il Presidente della Regione Musumeci. Chiedono di sollecitare il Governo nazionale sulla necessità della didattica a distanza come strumento di accompagnamento temporaneo verso la piena didattica in presenza. Nel frattempo, la sensibilità che è stata evidenziata anche dai sindaci della Sicilia non può lasciarci immobili. Non possiamo neppure alimentare un inutile conflitto con il Governo centrale che ha già annunciato di voler impugnare decisioni in contrasto con la legislazione vigente. Abbiamo quindi adottato la soluzione più ragionevole e giuridicamente compatibile, utilizzare i nostri poteri di autonomia primaria sul calendario scolastico consentendo uno slittamento dell'apertura delle scuole di alcuni giorni fino a un massimo di 5. quel tempo ci permette di cogliere lo stanzo della pandemia e consente alle scuole e al sistema sanitario di realizzare gli obiettivi. La task force regionale sarà comunque riconvocata per mercoledì 12 gennaio.